Mentre il Comune dell'Aquila con l'assessore al personale Fausta Bergamotto in prima linea punta ad aprire un tavolo tecnico al Ministero per cercare di smuovere le acque stagnanti della stabilizzazione dei lavoratori precari impegnati nella ricostruzione, la CGL Funzione Pubblica dell'Aquila suona la sveglia per accelerare una soluzione. I tempi stringono infatti i contratti dei dipendenti a tempo determinato, coloro che lavorano nel Comune dell'Aquila e nei due uffici speciali sono in scadenza e per di più dalla struttura tecnica di missione a Roma ancora non arrivano notizie sui fondi per l'assistenza tecnica della ricostruzione. Un bacino finanziario dentro cui ci sono anche soldi per pagare gli stipendi, 4 milioni di euro per stabilizzare tutti i lavoratori. Intanto il piccolo esercito di lavoratori arrivati all'indomani del cosiddetto concorsone a Darmanforte e gli uffici della ricostruzione si assottilia sempre di più. Quello che noi chiediamo sono soluzioni celeri, immediate e definitive che diano risposte sia ai lavoratori che individualmente hanno tutti quanti i requisiti soggettivi per procedere alla stabilizzazione nelle pubbliche amministrazioni ma che contestualmente chiaramente diano una continuità immediata ai processi di ricostruzione. Qual è la situazione dei precari? Sappiamo che sono distribuiti in più uffici. Sì, attualmente la distribuzione è fatta tra i 56 precari del Comune dell'Aquila, 25 dell'USDRA, quindi Comune dell'Aquila, l'Ufficio di Costruzione dell'Aquila e 25 del Comune del Cradere. Di questi però nel frattempo diversi lavoratori, circa il 20% dei lavoratori, essendo qui in condizioni precarie, hanno trovato soluzioni definitive in quanto partecipato ad altri concorsi e altre selezioni, per cui sono diminuite circa del 20% le risorse umane a disposizione di ogni servizio. Le strade a percorrere sono innanzitutto dal punto di vista normativo, perché i lavoratori hanno un requisito soggettivo, è quello di stabilizzare seguendo i processi della norma del decreto Madia. Contestualmente il problema parallelo a questo è la questione di risorse, per cui vanno trovate delle risorse stabili, trovate anche come dichiarava l'assessore al Comune dell'Aquila, la dottoressa Bergamotto, sia all'interno dei bilanci comunali, sia all'interno di quelle che devono essere risorse speciali da destinare.